Buongiorno, sono Alessandro Saviola, presidente del gruppo Saviola. La nostra realtà industriale è presente a questa manifestazione Ecomondo sin dall'origine. La nostra azienda si occupa di produzione di pannelli truciolari in un modo particolare perché dal 1990 circa utilizziamo esclusivamente legno di riciclo, legno post-consumo per la produzione dei nostri pannelli. Siamo stati pionieri in questo senso, nel senso che abbiamo cominciato questa attività quando nessuno ancora parlava di riciclo e di fatto anche a livello normativo c'era poco in tema di riciclo. Poi col decreto Ronchi nel 1997 la situazione anche in Italia è cambiata, si è dato un impulso importante allo sviluppo del riciclo e la nostra azienda di conseguenza ha avuto una crescita importante. Diciamo che il nostro caso virtuoso ha trascinato un po' tutto il comparto dei produttori italiani di truciolare verso la strada del riciclo e oggi possiamo dire con orgoglio che l'Italia è il primo riciclatore di legno al mondo. Quindi è un'eccellenza che è tutta del nostro paese. Per una volta abbiamo un primato mondiale che il resto del mondo ci invidia. I segnali che quest'anno il mercato ci consegna sono estremamente confortanti perché la raccolta segna quest'anno un più 16% e visto che parliamo di legno post consumo riteniamo che questo incremento non sia legato ad un incremento dei consumi ma più che altro ad un efficientamento, ad un miglioramento della raccolta anche in zone come quelle del sud Italia dove tipicamente i livelli di raccolta erano decisamente più bassi. Quindi questo è un segnale estremamente positivo che raccogliamo oggi dalla fiera di Rimini. Grazie. 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 Grazie.